L'agenda della settimana si apre con venerdì 13 luglio. L'appuntamento è ad Agordo per Estateatro alle ore 21 presso l'auditorium Don Vincenzo Savio con ovviamente la possibilità di gustare del buon teatro. Poi sempre venerdì 13 c'è la Corri Cornei ore 19, 6,2 km non competitiva. A Quero la tradizionale Sagra dei Scios. Mi si vedono le occhiaie? Ok a San Vito c'è il San Vito Blues and Soul Festival. Per eventuali informazioni e per capire quali saranno i protagonisti di questa straordinaria e rinomata rassegna www.sanvitobluesandsoulfestival.it Chiudiamo con Auronzo le ore 21 in piazza per il teatrino per bambini. I tornei del 14 e 15 luglio stiamo parlando di calcio. Allora calcio saponato a Pez, calcio a 7 a Lungarone, misto a Santa Giustina, a Santo Stefano di Cadore, calcio a 5 a Chies dal Pago, Gottardo, la femminile a Vellai. E su Facebook potete trovare tutte queste informazioni semplicemente cliccando la pagina Tornei Bellunesi Corriere. Per tutti coloro invece che amano andare a piedi e correre, su Facebook tenete d'occhio la pagina Pedonate Bellunesi e per coloro che amano la due ruote Pedalate Bellunesi. Siamo arrivati a sabato 14 a Gosaldo c'è la tradizionale festa di Luglio. Invece due appuntamenti per settimana prossima, martedì 17 all'interno della rassegna Leggere le Sere, curata dalle bretelle rasche, al Chiostro del Catullo di Belluno alle ore 21 il Piccolo Principe, con la straordinaria partecipazione di Pierluigi Svaluto Moreolo e Andrea Cecchella. Mentre mercoledì prossimo 18, per i mercoledì di Limana, ci sarà Sport in piazza e alle ore 20 ci sarà la corsa podistica non competitiva di 6 chilometri. Da Night in Day è davvero tutto, noi ci rivediamo ovviamente settimana prossima, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato su Telebelluno e poi ovviamente nel web attraverso Facebook, Twitter e ovviamente la nostra pagina su YouTube.